Bentornati nel canale La Vita Curiosa. Prima di iniziare questo nuovo video clicca su mi piace e iscriviti al nostro canale. Un gesto d'amore ha fatto sognare i fan di Albano Carrisi e Momina Power, mentre sembrerebbe che la Power abbia ricevuto un anello prezioso dal suo ex marito. Questo segno d'affetto ha scatenato speranze tra i fan che desiderano vedere i due celebri cantanti di nuovo uniti come marito e moglie. L'anima artistica di Albano Carrisi e Momina Power ha incantato il pubblico per molti anni e la loro storia d'amore, con tutte le sue sfumature, è stata esposta al mondo, spesso sulle pagine delle riviste di gossip e durante interviste. Questa volta sembra che ci sia un segnale di riconciliazione che ha attirato l'attenzione dei fan, facendo sussurrare parole di speranza. Il gesto di Albano di donare un anello alla sua ex moglie Momina Power è stato accolto con sorpresa e commozione dai fan, alimentando le speranze di una possibile riunione di questa iconica coppia. L'anima della loro musica sembra ancora vibrare insieme, e i sostenitori di lunga data sperano che possano trovare la felicità insieme, come in passato. Nel corso degli anni, la famiglia Carrisi è stata sotto i riflettori, con tutti i membri che hanno avuto la loro parte di luce e ombra. Romina Junior, la figlia di Albano e Romina, è stata un punto focale di interesse mediatico, dalle sue avventure all'isola dei famosi e ai suoi momenti di difficoltà legati all'uso di alcol e droghe. In un'intervista, ha aperto il suo cuore, condividendo come sia stato difficile gestire la pressione della fama legata ai suoi genitori celebri. La figlia ha sempre coltivato il sogno di diventare un'attrice, ma si è spesso ritrovata coinvolta in dibattiti televisivi principalmente legati alla fama dei suoi genitori. Nonostante le sfide, Romina Junior ha deciso di radici, appartenendo sia al mondo dei Carrisi in Puglia che a quello dei Power, dividi Hollywood. È un artista che porta con sé un'eredità musicale e cinematografica. Ora, il dono dell'anello da parte di Albano a Romina ha scatenato l'entusiasmo dei fan, che si chiedono se questo gesto d'amore possa portare alla riunione di una delle coppie più iconiche della musica italiana. Il destino di Albano e Romina Power resta un mistero, e il mondo tiene il fiato sospeso, sperando che questa storia d'amore possa avere un lieto fine. Grazie di aver visto il video e rimani sintonizzato per non perderti le prossime novità.